I prodotti sono articoli da regalo, arredamento e l'artigianza artistica in generale, che fra l'altro è uno dei settori più colpiti da questa crisi, francamente. Infatti la contazione dell'economia sta colpendo proprio i prodotti di questo tipo di ambiente e di provenienza. Infatti noi aspettiamo proprio che ci siano dei provvedimenti anche a livello più generale che aiutino le imprese in questo momento a cercare di rilanciarsi. Questa iniziativa a livello territoriale è molto importante perché tiene in vita questa tradizione storia della nostra zona e che è un punto di riferimento nell'anno, ha un certo richiamo e muove molto anche l'economia a livello locale.